Buongiorno, buongiorno Regione Nazio Vito, buongiorno a tutti quanti, auguri a tutti i valentini. Beh, oggi è la festa dell'amore, che bella, io e Irina ci ho preparato una sorpresata, sì, perché lei non se l'ha aspetta, perché la portò a cena fuori, sì, 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 la bella cena al lume di lumino, è bella, tutti noi, diciamo, da soli, gli hai fatto fare il menù, sì, sì, lei ci piace proprio, lei è amante, amante del pesce, come piace il pesce Irina, ecco il Dio Piotr, lei è granchia, sì, sì, ci piace il granchio, la cernita, ci piace pure l'anguilla, come va? Sì, lei è, proprio perché lei è Irina Perizzoma, no, lei è rumena e quindi lei ci piace molto perché loro, loro queste, diciamo, che vengono da là e piace molto il pesce, a volte anche la carne, lei preferisce, diciamo, la sacciccia, però no, povera, no, Pezzente vuole proprio quella piccantina, è di bocca buona Irina, sì, 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 e poi ci avevo preparato un'anella, l'anelletti con il pesce, facciamo una, diciamo, una bella cena, tetta a tetta, mamma mia Irina, quando facciamo tetta a tetta, si appanna in i lenti, io me li devo togliere perché lei, crediamo di dire, l'airbang, quando scoppia, praticamente è bello, è bella chiene, diciamo, se, diciamo, se è pieno, se tenessi una batteria, eh, quanta solda aveva fatto, comunque, è bella queste tetta a tetta, e passiamo una serata, ci ho preparato pure, ci ho il violino, il violino si è registrato, perché non è un violinista, non l'ho trovato, diciamo, poi ci ho preparato un anello, l'ho messo nell'uovo di Pasqua, ma lo rompiamo stasera, sì, sì, e un anello, ci ho preso un rubigno, sì, e ci ho messo pure un libretto della pensione, perché io, mi figlio, lei è innamoratissima di me, me lo ripete sempre, ogni fine mese, lei mi ripete 27, mi sembra, quando è la lettera mia pensionale alla posta, mi dice, ti amo, ti evite, ti amo, ti amo, mamma, ti amo, con tutto il solito giorno, diciamo, della posta, e poi, diciamo, un giorno dopo, poi ci arriviamo, diciamo, però è molto legata a me, sì, io sono molto legata a lei, da Greta, beh, beh, allora, poi mi racconta domani come è andata questa cena, a tetta, beh, al vostro cagliardo e tosse in casa vostra Greta, amate, almeno per oggi, e di mano vi scomate a sangue, al vostro cagliardo e tosse in casa vostra Greta, l'ho già detto, con garbo, eh.